musica ragazzi e stai benvenuti in questo nuovissimo video ragazzi oggi siamo tornati di nuovo come avevo promesso su giochi olimpici di rio benedanero 2016 dunque l'altra volta facciamo il torneo di calcio e lo facciamo oggi vediamo cosa possiamo fare allora oggi faremo come avete visto il torneo di tennis e di vincere e vamos allora viviamo contro la Croazia facciamoci rispettare iniziamo perfettamente comunque in ogni caso vai piano questo è un trucchetto se prendi checkpoint tutti alla fine ti va a fare la mostra speciale che il tuo avversario non potrà mai pararla c'è pure salati centrale dritta non te la prenderà mai ah ok e la foto è la mostra speciale perché noi non mi centravamo in checkpoint vabbè vediamo di centrare tutti i checkpoint cerchiamo di farci rispettare cerchiamo di farci rispettare primo checkpoint preso primo checkpoint preso secondo checkpoint preso terzo no terzo checkpoint preso ultimo checkpoint mancato solo un inventario ho la sensazione ho la sensazione che questo non finirà mai però vedete dove me la mettono cioè raga vedete dove me la mettono poi dice che devi perdere ah finalmente perché devi perdere vedete dove me la metto ho la sensazione che questo video era troppo ah finalmente cerchiamo di fare l'ultimo punto così almeno ci qualifichiamo per la finale primo checkpoint preso primo checkpoint preso primo checkpoint preso e andiamo finalmente dopo tanto tanto tempo ok ora in finale contro il canadise ok perfetto mi sta bene cerchiamo di prendere checkpoint ok primo checkpoint preso secondo checkpoint preso ok punto volevo dire quando prendi checkpoint fate il tiro sono imparabile cioè anche se hai avuto del tipo centrale come vi ho detto prima prendiamo di prendere l'ultimo checkpoint e andiamo allora per ora stiamo in vantaggio per ora ma va a finire che è durata mezz'ora la semifinale ma la finale la finale due secondi bel tiro bel tiro ha fatto un bel tiro che però calmati con i miei tiri eh non lo so allora uno due tre mi spiegate parito va bene se lo dici tu l'ha mancata dai raga ma lo fanno apposta allora eh l'ha mancata l'ha perso va bene cioè questo li ha fatto tutti e sei punti così li ha fatti tutti e sei punti così li ha fatti tutti e sei punti li ha fatti così dalla battuta no no non si può avere anche un punto scriptato magari magari faccio questa roba tra me allora come un caso vedo ok e me l'ha l'argento immeritata non immeritata assolutamente ragazzi questo video termina qui se vi piacere vi lasciate un like un commento iscrivetevi al canale se vi siete iscritti noi ci vediamo al prossimo video ciao domani ciao ragazzi ciao